Ben ritrovati, iniziamo oggi questa nuova puntata speciale parlando di una grande interprete della musica italiana che in un outing recente ha ammesso ciò che in molti pensano e che tante evidenze hanno confermato, cioè che nel mondo della musica italiana e non gli usi e abusi di sostanze sono ben presenti purtroppo. A farlo in particolare è stata Patty Bravo che ha dichiarato, ospite al programma Belve, di aver provato tutte le droghe. Patty, come la chiama Ornella Avanoni, ha avuto una serie di esternazioni, per esempio ha dichiarato di amare l'odore dei cammelli, di aver usato anfetamine, di essersi sballata con l'ossigeno dopo una capatina in farmacia e di non essersi mai rifatta chirurgicamente. Sicuramente da incorniciare c'è anche un po' una chicca sanremese, quanto pare Patty Bravo è solita attaccare le gomme da masticare al microfono con buona pace di chi lo userà dopo di lei. Non è scaramanzia, ha spiegato è che non so dove mettere la cicca. A 75 anni dunque Patty Bravo, la cui vita è sicuramente segnata dal suo carattere forte e da qualche eccesso, ha risposto a una domanda chiara e diretta di Francesca Fagnani sull'uso di droghe, dicendo certo che l'ho fatto, chi è che fa questo mestiere senza anfetamine e ancora gli altri sono più timidi a dirlo e poi lei ha risposto no, in realtà non è timidezza ma non lo dicono proprio e qui il riferimento è al passato o al presente. Per esempio Patty Bravo alla domanda parla degli anni 70 o anche di oggi? Lei ha risposto in generale. Gli effetti? Beh, stai sveglio, ha fatto sapere ancora la cantante, lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità, appunto riferendosi alle anfetamine. Quanto alle storie d'amore importanti, Patty Bravo ha di fatto ricordato il batterista Gordon Angus Faggeter, l'arredatore Franco Baldieri, il chitarrista Paul Jeffrey, il bassista Paul Martinez, il chitarrista John Edwards Johnson e anche Riccardo Fogli. a chiederle se è rimasta in buoni rapporti con tutti, poi la cantante ha risposto divertita, beh, quasi con tutti. Quanto è il suo successo? Ha invece spiegato, non sono stata travolta, ma papà mi diede la maggiore età a 16 anni, non sapevo assolutamente nulla di tutto questo, riferendosi al mondo dello spettacolo mi dedicavo e lasciavo che gli altri facessero. Poi Fagnani le ha chiesto chi gestisse i suoi soldi e lei ha confermato, sì, mi sono lasciata e ho lasciato che gestissero i miei soldi i vari manager e chi mi stava intorno, se mi hanno un po' fregata, beh, certo, e non soltanto loro. Insomma, una sorta di confessione, un ritratto tutto tondo da parte anche della stessa cantante, lei che ha reso celebri i brani come La Bambola, Ragazzo triste, Pazza idea o, come nel caso di oggi, del nostro singolo protagonista in questo spazio, e Dimmi che non vuoi morire. Si tratta di un brano del 1997, il 32esimo della carriera dell'artista veneziana. Il singolo ebbe un grande successo, pur rimanendo fuori dal podio Sanremese, dove appunto era in gara. Entrò nella Top Ten il 2 marzo del 1997, appunto, qualificandosi poi secondo. Scritta da Vasco Rossi per il testo e da Gaetano Currere e Roberto Ferri per la musica, la canzone venne interpretata proprio da Patti Bravo e presentata al Festival di Sanremo e infatti era stata data inizialmente per favorita. Noi adesso la riascoltiamo insieme. A presto!